Sono state riapprovate le graduatorie relativi al concorsone degli operatori sociosanitari indetto dall'ospedale Riuniti di Foggia per 2445 assunzioni in tutte le ASL pugliesi annullate. Dunque le precedenti graduatorie del 13 marzo 2020, le maggiori difficoltà riscontrate dalla ASL nelle attività di revisione sono state in gran parte riconducibili alle rate ed imprecise dichiarazioni rese da parte dei candidati in merito ai servizi effettuati in relazione sia agli enti e agli aziende di riferimento che soprattutto alla tipologia del contratto di lavoro. Nonostante la scrupolosa e complessa attività svolta spiegano dall'azienda non si esclude che in sede di verifiche ed accertamento documentale dei soli titoli di servizio del requisito specifico di ammissione al concorso si possano determinare modifiche delle posizioni di merito all'interno della graduatoria che vanno accertate per scongiurare assunzioni illegittime. Intanto l'ente ha comunicato che dal giorno martedì prossimo 21 aprile fino al 5 maggio sarà consentito ai vincitori esterni di accedere online alla piattaforma informatica utilizzando le credenziali già in possesso perché possano indicare le 10 preferenze opzionali di scelta dell'azienda dove desiderano essere assunti. Ovviamente la migliore posizione di merito ottenuta nella graduatoria da ciascun candidato sarà collegato all'ordine decrescente delle preferenze, tempistiche abbastanza ristrette per poter procedere subito agli assunzioni proprio in questo momento storico segnato dall'emergenza sanitaria del coronavirus.